Buongiorno a tutti e a tutte, iniziamo il nostro incontro e iniziamo in qualche modo anche il Festival Francescano, così ci introduciamo immediatamente nel tema di quest'oggi di grande, grande attualità, per tutti i motivi a cominciare da questi Friday for Future. Il nostro tema, il tema del Festival quest'anno, attraverso parole, prove di dialogo, si declina quest'oggi in modo un po' particolare perché il dialogo in questo caso è tra l'uomo e la natura. A presentarci il tema abbiamo due persone, due studiosi di grande spessore come sono il chimico Vincenzo Balzani, accademico dei vincei, professore di merito, ma non elenco tutti i titoli perché altrimenti non finiamo più. Affianca la ricerca scientifica un'intensa attività di divulgazione, attività che l'ha portato a scrivere due libri importanti, tra gli altri, molto di più immagino, ma voglio citare questo reading and writing the book of nature, il libro della creazione, il libro della natura, che è una metafora cara, anche a noi francescani, la seconda lettura, e l'altro testo invece energia per l'astronave Terra, l'era delle rinnovabili. E abbiamo a dialogare con lui che cerchiamo invece l'aggancio con le nostre radici e con la letteratura classica. Ivano Dionigi, filologo, magnifico rettore dell'Università di Bologna fino al 2015, ha incentrato i suoi studi su versanti moltefici, romano, greco, pagano, cristiano. Attualmente sta cercando di mettere in qualche modo in dialogo le cosiddette scienze esatte. con la letteratura, non più vedendo questi due mondi come due culture contrapposte, ma come sta cercando insomma vie di alleanza e dialogo tra questi due punti di vista sul mondo. Ammesso che siano due punti di vista diversi. Dirige e ha fondato il centro, la permanenza del classico tra le sue opere. Osa sapere, contro la paura e l'ignoranza, pubblicato da Solferino proprio quest'anno, 2019, quando la vita ti viene a trovare. Ocrezio, Seneca e non dalla terza nel 2018. Lascio allora la parola. Si alterneranno diverse volte in modo dialogico. Già questo ci dà un modo molto bello di tenere insieme due approcci diversi al mondo. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono molto contento di essere qui con voi e con l'altro libro di Valdini. Spiritualmente penso, diciamo, tutti in piazza con gli altri studenti e quelli che fanno questo. Noi qui stiamo, come ha detto già, stiamo per discutere, diciamo, un dialogo sulla natura. Ecco, quando si dice natura, spesso si parla, si piace sempre all'ambiente. Quando si dice ambiente si parla di clima. Però la natura, in realtà, è tutto, comprende anche l'uomo. È il pianeta Terra e tutti noi che ci siamo sopra. E siamo sopra al pianeta Terra per vivere. Perché per vivere cosa ci vuole? Beh, bisogna essere verificati in certe certe condizioni. E molti di noi oggi dubitano che potremmo vivere sulla terra. Ecco, potremmo eventualmente discutere di queste cose dal piano. E comunque la parola fondamentale quando si fa pensare se continueremo a vivere sulla terra è sostenibilità. Ecco, sostenibilità ecologica, cioè di questa nostra casa che deve fornirci i mezzi per vivere. Ma poi, sappiamo benissimo che se anche la casa è sostenibile, cioè se ci sono nella casa, le con viste, tutto in ordine, però c'è un altro problema. Nella casa dobbiamo viverci. E quindi c'è un problema di sostenibilità ecologica, ma anche di sostenibilità sociale. Perché se gli abitanti di questa casa danno tutti gli stessi diritti, se ci sono forti disuguaglianze, come vedremo, allora le cose non vanno bene. Ecco, la sostenibilità è, diciamo, un problema molto importante. Come si fa a discutere dei problemi importanti? Io ho preso un'indicazione da uno scrittore che molto conosco, naturalmente, che è Fulio Calvino, che dice se vuoi capire bene le cose importanti, prima di tutto devi guardarle da lontano, cioè farti un'idea generale del problema. Poi ci sarà tempo di andare nell'Italia, di proporre soluzioni, ma intanto cerca di avere un'idea generale. E allora cercherò, appunto, di dare un'idea generale nella dimensione dello spazio e poi anche del tempo. Comincio con questa figura che apparentemente non mostra nulla, se non appunto queste annelli di Saturno e un po' di cielo, però se uno guarda meglio e vede che c'è un puntino, ecco, quel puntino è la nostra terra. Ecco, questa figura è molto importante. Penso che dovremmo pensarci a meditarci sopra, non solo noi, ma anche quelli che ci governano. Perché capite, si capisce subito che qui siamo, allora, in una specie di astronave piccolissima che viaggia nell'infinità dell'universo. Ed è un'astronave molto diversa da quella che vedete in tv nei film, perché è un'astronave che non potrà mai atterrare in nessun posto, non potrà mai fermarsi a farlo tagliando, ecco, non potrà mai caricare o scaricare nessuno. Qui bisogna andarsi ci dentro, un puntissimo è dentro. non potrà fare il fornimento. E quindi si capisce che siamo in una situazione molto, molto critica, nel certo senso, difficile, ecco. E quindi dobbiamo vedere tutte seme, bianchi, netti, giari, buoni, cattivi, su questo puntino, no? E se qualcosa non funziona, se si rompe qualcosa, e appunto gli essenziali ci dicono che qualcosa si sta rompendo, cioè prima, se si rompe qualcosa, dovremmo ripararla da soli e senza neppure scendere. Tutte cose che ci dicono che una situazione delicata non è da tenere conto. La Terra, dunque, è questa nostra astronave, è l'unico luogo dove possiamo vivere noi, è un nulla, vedete, dell'infinità dell'universo. Eppure siamo noi qui, su questo puntino, e dobbiamo vivere. Siamo noi uomini. E andiamo a vedere un po' la scala dei tempi. l'anascita dell'universo, che non è qui riportata, risale a circa 14 miliardi di anni fa, la Terra ha 4 miliardi e 500 milioni di anni, la vita è data 3,5 miliardi di anni fa, la comparsa dell'uomo in questa scala è vicina allo zero, vedete? Anche l'uomo nella sua tecnologia. Sappiamo che l'evoluzione è iniziata, è portata avanti, partendo da, appunto, qualche milione di anni fa. Più dopo è successo che, naturalmente, un milione di anni fa si pensa dove hanno trovato il fuoco. Più dopo è ancora l'evoluzione. 200 mila anni fa erano molto più avanzati, naturalmente, degli antenati. E poi, quello sappiamo anche, che l'inizio di quella che consideriamo civiltà umana risale solo a 10 mila anni fa, mentre l'universo è 14 miliardi, no? Allora, si capisce che siamo in una situazione strana. Cioè, se la Terra è un nulla rispetto all'universo, è la scala dello spazio, beh, la scala del tempo, un uomo è un nulla rispetto al tempo della Terra, anche della vita. Quindi siamo in due condizioni strane, no? Strane, pieni di misteri, nel senso. Quindi questa è la nostra situazione. Allora, parliamo di questa nostra stranave Terra, che, visto andare vicino, è naturalmente più grande. E qui, appunto, la Terra, inizialmente, per gli uomini che aiutavano, c'erano pochi, sembravano cose infinite. E per i miliardi di anni gli uomini hanno viaggiato, anche, come passeggeri passivi, dominati dalle forze della natura. Poi dopo la cosa un po' a volte è cambiata. Perché, appunto, col tempo è aumentato il numero degli uomini, ma soprattutto è aumentata l'attività dell'uomo sulla Terra. Ecco. E si è aumentata l'attività del corpo sulla Terra anche sotto gli occhi di tutti. Comunque c'è chi studia queste cose che fa vedere i propri grafici, come questi, che c'è stato un durco cambiamento di velocità, insomma. E queste gambe di velocità, magari guardiamo ad alcuni di questi grafici, che vedono di meglio, riguardano un po' tutto. Non so, il consumo dell'acqua, il consumo della carta, il numero di dighe, potremmo avvenire il numero di 10 tonno, insomma. E tutto è cresciuto moltissimo qua. E' dalla seconda mezza del secolo scorso, circa dal 1950. C'è stata quella che gli studiosi chiamano una grande accelerazione. Naturalmente questa grande accelerazione dell'attività dell'uomo ha avuto conseguenze sul pianeta. Ha causato enormi cambiamenti nello stato del pianeta. Come mostro i grafici delle prossime figure, anche qui sono tutti insieme, non si vede tanto. non c'è qualcuno. Quindi, non so, la biodiversità, per esempio, che sta scomparendo molto rapidamente, la CO2 che è comparsa anche a un'acqua di concentrazione occupata in atmosfera. quindi anche di conseguenza dell'attività dell'uomo, anche, diciamo, la situazione del pianeta è cambiata. E' stata una brutta accelerazione dal 1950. Oggi gli studiosi dicono che siamo in una nuova epoca chiamata antropocene. antropocene, potrebbe dire, chiaramente, un uomo è un uomo, comunque questo viene considerato il nome di questa epoca dell'uomo. E' una grande verità nella storia della Terra, perché nel passato le epoche sono state sempre scaldite da eventi naturali, ma negli ultimi tempi l'uomo ha scoperto di poter utilizzare l'energia e i combustibili fossili. E poi c'è stato un forte progresso nella scienza della tecnologia e queste due cose, le sinceri, hanno portato a questa nuova epoca caratterizzata appunto dal progresso della scienza e dalla grande disponibilità di energia. L'uomo si è fatto alla sua epoca. Siamo nell'altra voce. Vediamo com'era la questione dell'energia, per vedere cosa è successo. In questo grafico ho riportato in modo approssimato il consumo d'energia nella storia dell'uomo. Vedete sono andati fino a meno 3.000, cioè 3.000 avanti Cristo, quindi sono andati 5.000 anni fa. 5.000 anni fa gli uomini erano uomini sulla Terra e cosa facevano con l'energia? Beh, non c'erano qualche cazzo di vento. Poi cosa è successo? A mani passavano i decenni, i secoli, i millenni, le città, ma cosa è successo dal punto di vista dell'energia? Niente. Abbiamo continuato a trattucciare del legno, fino a 5-500 anni fa, però poi c'erano tutto, le foreste cominciavano ad essere un po' scarse e qualcuno ha scoperto che c'era una roba negra più energetica del legno, che si chiama carbone, scoperto di carbone è iniziata la rivoluzione industriale, ci si ammessa consumare l'energia, 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 tanto più che dopo abbiamo scoperto il petrolio, non tanti anni usavano anche il gas. Ecco, quanto consumiamo oggi? Oggi siamo qui su un cino, l'importante è sto cino, perché vedremo di noi una cina che ho fatto una palla. Ecco, ogni secondo al mondo, ogni secondo, ogni secondo passano in petta, no? Ogni secondo consumiamo 250 tonnellate di carbone, 1.000 barri di litro al 1 e 105.000 litri cubi di gas. E la quantità è enorme, se ci pensate, ogni secondo. In modo che dovremmo farci vedere avanti. Ma intanto chiediamoci è servita questa roba? Eh sì, certo che è servita. È servita, no? Facciamo un altro esempio. Una volta, quando ero giovane io, prima degli anni 50, e si tagliamano gli anni 8 con la faccia, no? Adesso arriva una macchina che, in poco tempo, finisce il lavoro. Ma dal punto di vista energetico, cosa vuol dire? Un bracciante, in genere, in media, un bracciante molto lavora, diciamo che produce 0,2 kWh. E una barrile di petrolio, le furisce 1.700. Per cui se faccio la divisione, vedete che un barrile di petrolio arriva da circa 850 giornate lavorative di un bracciante. Eh, sono scomparsi i braccianti, no? Tranne che magari c'è ancora giù a raccogliere il pomodoro con il proprio discorso. Sono scomparsi i braccianti e sono scomparsi anche la battaglia. Perché? Eh, perché si fa fatica un bar, no? Da quando si è scoperto che è possibile con l'energia elettrica generata l'energia elettrica, mettere dei fili poi dentro un agenzio che si chiama lavatrice, mettere una specie di schiavi energetici che lavorano per noi e, insomma, la lavatrice è un'ora a fare il lavoro quindi quindi ce la mandare e per questo si può passare a mandare. E gli automobili? Eh, gli automobili che vanno ai 110 in autostrada a consumo, benzina, all'isola, all'elettrica e se dovessimo mandare un'automobile in autostrada al 110 all'ora con energia muscolare magari dicendo che pedalano quanti ce ne vorrebbero? Eh, molto! Qui ci stavano tutti 800 persone che dovrebbero pedalare per noi per mandarci in autostrada con l'automobile non parliamo poi di far decollarlo con l'automobile, no? Ci vorrebbe un milione di delanatori quindi quando decollano dalla Valpensa chi ti diranno dovrebbe stagliare per la mano e ci ha fatto bene i combustibili fossili, no? Però, ecco, ti sembra prima di però però ci accorgiamo a questo punto che dovrebbero lasciare i combustibili fossili ma perché dovrebbero lasciare? E ci sono tre motivi uno è che prima o poi ci lasceranno loro perché non sono in quantità infinita non sono le risorse rinnovabili quindi quando io scopro un po' di petrolio allora comincio a tirare fuori il petrolio sempre di più di più di più quindi diventa di meno di meno di meno perché finisce e così per tutto quindi diciamo di petrolio e metano si parla che ci sarebbero per 20-30 anni a voi avete più vita quindi ci sarebbe questo problema ma il punto è che prima che loro ci lasciano dobbiamo lasciarli loro perché? perché ci fanno due danni molto grandi il primo è questo che ho preso tanto qui l'inquinamento l'inquinamento che porta in Italia superlivo a una morte prenatura di circa 80.000 persone all'anno poi dopo prima non so l'inquinamento come vedete è molto forte in certe zone in particolare nella nostra valle padana e chi vive nella valle padana deve sapere che la sua vita perderà da 1 a 3 anni di vita statisticamente e quindi questa è una cosa già grave ma c'è una più grave e quella più grave è quanto si producono i combustibili fossili di carbone metallo si produce una sostanza chiamata anetidride carbonica così popolare ma in questo periodo la quale non è venuta usa non è colorata non è niente ma che male si fa? ecco l'agricarbone che c'è già in atmosfera noi ne mettiamo solo di più fa una specie di mantello attorno alla terra per cui entra l'energia solare e poi si scalda il pianeta ma non riesce più a far uscire tutta l'energia che è entrata quindi diciamo che è una specie si costituisce come si riserva si scalda il pianeta è scaldato il pianeta poi cambia il clima perché il pianeta è complicato c'è il mare c'è la montagna eccetera eccetera c'è il clima e poi succede allora che in certi posti piove troppo in certi piove poco succede che scioglie i ghiacciai sentiti in questi giorni c'è il montevianco un ghiacciaio che sta mettendoci tutto dice vabbè se scioglie i ghiacciai aumenta il livello dei mari aumenta il livello dei mari aumenta il livello dei mari tutte le città che sono i paesi che sono sulla costa è veramente inontate e quindi molto grave già succede a certi isole del pacifico dopo vediamo sto pure eppure succede che ci sono emigranti climatici e c'è gente che non ha più modo di vivere dove abita perché c'è è avanzato il deserto ci sono quando più e allora qual è la conclusione? beh i politici ci mettono un po' a dirlo ma il papa che ha fatto un enzitio che forse conoscerete qualità vero è stato molto esplicito i combustibili fossili devono essere sostituiti senza intugio la politica e le industrie rispondono con lentezza lontano dall'essere alla lentezza delle sfide che è proprio così perché è anche un problema complicato allora dicevo passiamola su in cima passiamola su in cima e a questo punto si capisce allora che abbiamo consumato molte risorse tutti questi combustibili fossili e prodotto un sacco di rifiuti dopo il cerco del rete dicevo appunto che bruciando i combustibili fossili che sia carbone che sia metano che sia benzina si produce con la sostanza chiamata CO2 che appunto causa questa cosa di rifiutata quanta ne immettiamo di CO2 beh sicuramente facciamo quantità enorme di combustibili fossili uno può aspettarsi una quantità enorme di CO2 riversata in atmosfera ogni secondo mille tonnellate allora questa faccenda della CO2 e anche quella diciamo del rinquinamento ci fanno capire che siamo in una situazione ecologicamente insostenibile ma possiamo andare avanti così di questa questione ci sono apporti già da una trentina d'anni molti esenziati che dopo poi dopo che hanno poi costituito questo intergoverno romano 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 sottoregito dell'ONU ma nessuno li ha ascoltati pochi ascoltati gli esenziati e anche se hanno cercato in tutti i modi di far capire che il problema è grave per esempio mio collega americano ha scritto questo libro il cui titolo può essere sottoregito tutto così vivere in un paese più ostile cioè di diffusione ma chi conosce un po' di gente sarà già conto che c'è un errore del titolo perché la parola terra inglese non ha due a ne ha uno solo ha dice questo qui non è capace neppure di scrivere il titolo del suo libro è l'ha fatto apposta perché così ha tirato l'attenzione per far capire che la terra oggi non è più quella di prima non è più quella di 50 anni o cent'anni fa e in particolare si rivolge agli economisti che gli economisti invece vanno avanti sempre con modelli vecchi che non si possono più adoperare oggi perché è cambiato tutto e quindi è più difficile vivere sulla terra da certi punti di vista e suggeriscono poi appunto suggerisce cosa fare poi dicevo appunto che nell'agosto del 2015 è venuta fuori l'incirca del Papa un'incirca molto importante questa si ha quasi l'impressione che lui parlando della terra la parte da di fuori insomma ha capito proprio tutto come si deve fare naturalmente sono consigliato da moltissimi essenziali e quindi hanno un documento scientifico molto alto questo e questa è circa dato poi la spinta che si era già in programma a quella famosa conferenza di parisi nel 2015 dove finalmente le nazioni sono state convocate qualche volta dall'ONU quello di scatare dell'ONU climatico è il problema più preoccupante per l'Unità tutti da fondo qual è la conseguenza? eh bisogna smettere di usare combustibili fossili si sono andati nel tempo perché era appunto un problema complicatissimo e hanno detto vabbè di qui al 2015 facciamo in modo che il consumo di combustibili fossili diminuisca fino ad arrivare a zero e naturalmente però abbiamo bisogno di energia e allora bisogna sviluppare velocemente delle altre forme d'energia questo è il 2015 nel dicembre dello scorso anno c'è stato un altro convegno dove appunto gli senziati hanno lanciato come un'ultima chiamata ai politici hanno detto o fate qualcosa se no qui va a finir ma il segretario dell'ONU in modo esplicito ha detto che il mondo è fuori in realtà cioè quello che facciamo non è sufficiente è quello che facciamo di più e gli senziati hanno detto cercate di più perché se no è una data che si può andare a finire così per l'Italia la valle padana è completamente inondata allora poi sempre i giorni nostri come sapete adesso accetta la ragazzina che ha avuto un grande pregio di farsi ascoltare i pulirci non ascoltano gli senziati ma è un ascolto anche perché questi erano questi giovani sono quelli che eravamo un po' in votazione ma qui vabbè allora però gli senziati sono andati avanti sempre in questi anni e hanno messo diciamo hanno detto attenzione non si può continuare così questo senziato molto noto ha scritto addirittura il mondo sull'orlo del baratro e poi discute nel suo libro come si può evitare il collasso interessante che si trovano delle frasi che sono proprio appena in piena il papa dice le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezza ironia non si può scherzare certi giornali ancora lo fanno no? che parla di gregilismi di roba così d'altro non si può fare neanche la ironia perchè sono cose anche per lo stile di vita attuale di San Papa essendo insostenibile ha abbiamo parlato di sostenibilità eh? questo insostenibile può sfociare solo in catastrofiche e quindi è necessaria una coraggiosa rivoluzione culturale il papa parla di rivoluzione culturale è indispensabile appunto recuperare i valori distrutti da una sfregatezza megalomani l'uomo ha voluto fare proprio ecco allora cosa c'è che non va? cosa è successo? perchè ci troviamo in questo guaio magari che qualcuno aveva previsto ma altri invece continuano a dire ma no tu sei chiesto e passerà allora alzitutto prima sulla terra per vivere per vivere cosa ci vuole delle risorse e che risorse abbiamo? beh una per fortuna ci viene da fuori e la visione sola è quella che risolverà tutto come sempre ha risolto tutto eh? ha fatto nascere la vita sulla terra eccetera ma tutte le altre risorse quelle concrete quelle materiali dobbiamo tirarle fuori dalla terra ora la terra è quella che è non è grande a piacere come erano così ma la terra è quella terra quindi è limitata allora se la terra è limitata anche le risorse ovviamente saranno limitate dici ma è così ovvio? ci bisogno di dirlo? eh forse sì perchè il papa vedendo dice l'idea di una crescita infinita crescita infinita vuol dire che ho delle risorse illimitate che tanto entusiasmo agli economisti è basata sul falso presupposto che esiste in una quantità illimitata di risorse falso presupposto perchè vedete noi scaviamo scaviamo per prendere le risorse dalla terra contra il sol scaviamo quanto? nel 90 50 miliardi di tonnellate di metterle prime non si capisce cosa vuol dire vi do un altro numero l'importante è che nel 2015 le limitate 70 quindi stiamo scavando sempre di più uno ha fatto dei conti 70 miliardi di tonnellate di metterle prime è divise le persone che ci hanno al mondo è diviso i giorni dell'anno fanno 27 kg di roba per persone al giorno ognuno di noi costa 27 direttamente 27 kg di roba di metterle prime tanto è vero che uno ha fatto questa rientra ha detto scavate scavate e il papa nel ciclo dice oggi ciò che interessa è estrarre tutto quanto è possibile ignorando la realtà a certo punto chiaramente una volta che uno ha le risorse cosa fa per vivere? le usano usando le risorse si producono rifiuti non c'è niente da fare pensate sempre che volete ma è sempre così allora siccome la terra abbiamo detto è quella che è tanto per i rifiuti non è che ci sia uno spazio illimitato lo dimostri il fatto che mandando tutto il rifiuto CO2 in atmosfera stiamo provocando le probabilità ecco perché qui il papa c'è un uomo pensa di essere di fronte a una natura che può essere sfruttata senza problemi perché gli effetti negativi dello sfruttamento possono essere eliminati che non è vero se prendete i giornali io l'ho preso un po' l'altro giorno tutti parlano di crescere deve crescere tutti gli effetti deve crescere la cina deve crescere la spagna deve crescere tutti ma crescere cosa vuol dire crescere ma quando uno parla di crescere da che ti faccio la domanda ma perché devo crescere? per cosa devo crescere? che conseguenza ha sto crescere? no? eh perché se quali sono gli problemi che diamo al mondo più importanti? quello ecologico c'è il pianeta e quello delle disuguaglianze se la crescita non risolve pure i problemi ecologici e non diminuisce le disuguaglianze è meno che non ci sia la crescita vedete dal punto di vista economico noi siamo immersi in questa cosiddetta economia lineare che è quella dell'use genita tutte cose che saprete qui si pensa che ci siano risorse naturali limitate avete visto lo spazio? non so limitate allora si pensa di poter usare delle risorse di farle come si vuole estrarle usarle fare delle cose che poi alla fine si chiama nei rifiuti pensate che i rifiuti si limitano per quanto riguarda ora non è così è che io prendo delle risorse e faccio dei rifiuti ma a forza di prendere risorse e vari rifiuti evidentemente non ci saranno più risorse ci saranno tutti rifiuti fra l'altro tutta questa economia dell'uso genita viene alimentata energeticamente con i combustibili fossili che causano quali fra l'altro sono loro stessi una risorsa non rinnovabile e per cui vi causano migliore ecco questa qui allora è la situazione insostenibile dal punto di vista ecologico cosa bisogna fare? bisognerà anche sociale per cui succede con questa economia lineare che molti si arricchiscono moltissimi molti si arricchiscono anche molto e altri rimangono poveri allora ho preso un diagramma che mostra che vedete i miliardari non i milionari no? i miliardari stanno crescendo che vuol dire che le disuguaglianze non solo non riusciamo a combattere ma anzi crescono sempre e le disuguaglianze ovviamente provocano le sostenibilità sociale qualcuno dirà ma sono cose americane ma no no l'italiano 10-12 euro e poi 500 mili operazioni quindi insostenibilità sociale ecco il Papa dice ci dovrebbe impegnare le norme disuguaglianze che si sono frangolini ecco cosa è successo? è successo prendo questo pezzo di Anna che l'uomo del XX secolo cioè diciamo della metà si è emancipato dalla natura come quella del XX secolo dalla storia storie e natura ci sono diventate estranee nel senso che l'uomo non può più essere comprise con le loro categorie ma sarà un problema perché noi viviamo nella natura e abbiamo una storia quindi non sarà facile vivere bene ignorando la storia e la natura poi c'è chi esprime in modo un po' drammatico questo problema dell'antropocene dice con l'antropocene l'eccezionalismo umano cioè l'uomo che è quell'individuo eccezionale rispetto all'animale prende coscienza della propria potenza geologica che potrebbe fare e celebra così la sua più schiacciante vittoria compromettendo la sopravvivenza del sistema terna si compie dunque il cambiamento di segno del futuro il passaggio cioè dal futuro promessa al futuro minaccia e infatti un tempo noi pensavamo sempre che i nostri figli avrebbero avuto un futuro migliore adesso no pensiamo che i nostri figli fossero amici peggiori di noi e quindi anche i filosofi sono preoccupati e non so Bauman l'assenza la tecnica hanno fatto vincere alcuna molte battaglie contro la natura la guerra la guerra sarebbe rendere degradare troppo il pianeta fatta da non poterci più vivere Umberto Calimberti dice che l'uomo è impotente contro l'assenza l'assenza è diventata più forte dell'uomo la domanda non è più cosa possiamo fare noi con l'assenza e la tecnica ma cosa l'assenza e la tecnica possiamo fare di noi abbiamo fatto crescere tanto l'assenza e la tecnica più ormai siamo diventati loro schiavi e la cosa forse finale la più giusta è quella che di questo filosofo mi dice quando è successo è lo smisurato potere che ci siamo dati su noi stessi e sui ambienti lo smisurato potere sono le male dimensioni causali di questo potere le conseguenze a imporci di sapere cosa stiamo facendo essi ai grie direzioni incontrarci ecco cerchiamo di sapere cosa stiamo facendo poi decideremo cosa fare grazie io credo che corre il rischio solo di ordinare questa illuminante è anche drammatica e anche drammatica l'azione che ha fatto l'amico Vincenzo Bazzani davvero maestro insomma ci richiama tutto all'inizio come vorremente qualcuno deve spegnere vorremente alla nostra casa perché è di noi che si parla che era quando si parla l'ecologia e il discorso e il ragionamento che facciamo sulla nostra casa io credo che la novità più positiva di questo ultimo quinquennio che dicevo prima con Bazzani e questo risveglio dei giovani anzi dei giovanissimi che ancora non sono rovinati diciamo dalla civiltà e che non sono ancora completamente anestetizzati evidentemente loro ancora privi degli argomenti e delle missioni che ha l'incenzo Bazzani capiscono che sono a rischio che siamo a rischio qualcosa di prelogico proprio voi avvertite e questo credo che sia che sia la vera novità la vera novità che ci fa ben sperare per questa aiuola che ci rende tanto feroci io farò un intervento adesso di un quarto d'ora massimo 20 minuti poi riprenderò dopo il discorso con 10 minuti con uno sguardo prima come ha fatto vincenzo più retrospettive poi vedremo così a cosa spetta così e fa cosa si potrebbe fare allora qualcuno si attende a me così una lezione sull'ambiente della natura della classicità il problema sostanzialmente trammatica nato con la modernità dalla rivoluzione industriale nell'antichità si era avvertito il problema perché se andiamo a vedere c'è i testi sia scientifici sia di tipo letterario parla della spondazione edilizia di inquinamento il disboscamento il dissesto idrogeologico c'è uno scrittore che dice che roba è talmente forata sotto talmente è vero penetrata da gallerie che sembra una città sospesa aerea e quindi il problema lo avvertivano anche loro ma cos'è che ancora li frenava un po' per cui la natura era sì violata solo in parte ma soprattutto regnava sovrani governanti il mondo la natura poi se andiamo a vedere cos'è natura dovremmo fare notte e non basta anzitutto una certa concezione religiosa che prevaleva o se volete superstiziosa per cui il sovvertimento all'ispetta natura era appartenuto dal fatto che si avvertiva c'è una sorta di concezione animistica per cui la natura era sacra non la potevi toccare pensate anche il viaggio degli argonauti viene definito nefas una cosa scelerata un delitto una cosa contro natura che non si deve fare perché viene marcato un limite c'è un limite così il folle viaggio di Ulisse quello degli argonauti il viaggio nell'antichità era ripenuta appunto una cosa perché andava oltre a qualcosa di inesplorato mai visto e quindi era di segno negativo bisogna attestarci su ciò che era noto non su ciò che era nuovo e pertanto mai sperimentato quindi il limite quel limite oggi che abbiamo mostrato gli amici noi abbiamo delegitimato la cosa città eme nel segno soprattutto infatti la tragedia nasce da dove si imprange il limite fedono e lea sono effrime hanno rotifredi sono fuori di rotifredi perché perché violano un codice il codice del limite del confine ecco e quindi c'era questa sacralità che frenava per cui non si poteva accanto a questa concezione religiosa c'era un altro mole che frenava che era un certo moralismo invasivo se pensiamo a tanti autori soprattutto molto di tipo latino c'era poi la civiltà anche molto greco la Roma era la civiltà della terra non del luogo greco è vero e lì era tutta la polemica contro il russo contro le attività estrative è vero si lancia per questo avvenimento per questo progresso questo progresso che lo dico a grandi lingue perché bisogna andare in dettagli degli autori era percepito il progresso della civiltà il progresso scientifico e tecnologico inversamente proporzionale a quella nuova tanto più cresciva il progresso esteriore tanto più cresceva la miseria morale quindi accanto a un freno di tipo religioso c'era anche appunto anche questa diciamo vena moralistica questa questa polemica contro tutto ciò che che viola la natura per abbellire l'uomo per migliorarlo perché migliora fuori l'uomo ma peggiora meglio per cui per cui il precetto sul quale convengono anche filosofie opposte è che bisogna vivere secondo natura non contro natura ma secondo natura rompere il limite fare altro violare l'uomo questo era un sacrificio questo sostanzialmente era per questo la la maledetta sete dell'oro la dignità l'ingordigia e anche una certa curiosità se convenivano frenate anche se avremo già una curiosità una curiosità di duplice uno è un precetto di tipo moralistico anche se mi cambiano ne fuori curiosi non essere curiosi non interessarti dello sviluppo esteriore di ciò che era tecnico pensa all'interiorità e invece se prendiamo Aristotele prendiamo la parte scientifica dell'antichità che è minoritaria minoritaria anche perché la storia la fa i vincitori tanti testi non sono stati è vero poi secondati l'esaltazione della curiosità è vero e allora l'uomo deve essere curioso o no questo è un po' l'alternativa ma al di là di questo la domanda di fondo qual'era? ecco la domanda di fondo era questa era il quesito di fondo la domanda filosofia il mondo è fatto per l'uomo o l'uomo per il mondo? perché questo è il tempo che si povera il mondo poi è ordinato o disordinato e che rapporto abbiamo noi con la natura? qui c'erano due concezioni diametralmente opposte c'era una concezione di una visione di tipo materialistico è vero per cui la natura è lei che governa tutto è vero noi siamo l'infinitesima parte e questa natura come era secondo queste concezioni anche materialistiche così atonistiche è vero era una natura difettosa atecomos priva di tecnica priva eh non c'era un arse non c'è non conosceva un arse una tecnica la colpa di cui parlo la natura è fornita di tanta colpa c'è un difetto c'è un peccato originale grandissimo che era una natura difettosa per cui è inospitale pensiamo una gran parte del mondo ho troppo calore ho troppo freddo sono in ospitali per l'uomo erano desolate e fenomeni avverse che avvengono che distruggono l'uomo pensiamo a come arriva l'uomo al mondo soprattutto su una spiaggia così lunga è vero per cui ecco è il mondo che domina la grande natura ci siamo l'infinitesima parte è l'uomo di Sipione proprio il mondo l'uomo è confuso quel mondo è finalizzato al mondo c'è un cosmocentrismo e qui è interessante andare a vedere ci sono diavoli con la natura per più autorevoli di quei proposti oggi a me e a Vincenzo andate a leggere e lo merita il dialogo della natura di un islandese di Leopardi e lui ripercorre questo nel segno della natura matrigna e cosa dice? che non c'è un disegno tutto cospira appunto riprende questa visione e dice tu mostri non aver posto niente che la vita di questo universo no ecco scusate immaginare tu forse ecco il concetto di natura matrigna e di natura per questa natura matrigna che Leopardi la riprende e la traduce in questo dialogo così immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa nostra sembra l'eco di filone l'eco storico e dice non proprio per noi non proprio per noi non siamo fatti non il mondo non è fatto per noi dice gli islandesi queste operette matrigne questo mondo o è soggetto a entropia o sta in piedi perché ci sono forze di vita e di morte che si bilanciano c'è una legisonomica c'è un nomo sinos che tiene tutto in piedi sono forze contrarie a leggi di vita e di morte e continuo questo dialogo che si è preso con la natura e la natura che mi risponde tu mostri non aver posto niente che alla vita di questo universo è un perpetuo circuito di produzione e distruzione collegata a me due tra sé in maniera che ciascaduna serve continuamente all'altra e alla conservazione del mondo l'uomo qui dice che è governato da queste leggi contrapposte in questa prima visione meccanicistica deterministica atomistica e vero materialistica contrapposta a questa c'era una visione di tipo diremmo così spiritualistica per intenderci la natura non è mal fatta ha tecnos priva di tecniche è vero come diceva qual'altro invece la natura tecniche la natura è ben fatta con il suo disegno è una macchina perfetta il mondo è stato fatto per noi non nos procternum ma mundus procternos per noi e questo vi porta subito l'uomo al centro l'antropocentrismo l'uomo al centro con una gerarchia c'è un mondo minerale un mondo vegetale il mondo dei viventi l'uomo psichico fino ad arrivare all'uomo a Dio questa natura e tutto è ordinato gerarchicamente secondo la provvidenza con l'uomo al centro questo mondo è unico finito vivente divino l'altra concessione ammettiva che non ci fosse un solo mondo grande preparazione scientifica dove ci fossero infiniti non di possibili e allora la seconda domanda è qual è il rapporto tra la tecnica e la natura è vero tra la tecnica e la physis vi faccio solo due accenni uno del quinto secolo avanti Cristo già allora si poneva il problema il filosofo Antifonti dice grazie alla tecnica risultiamo vincitori dove la natura sarebbe più forte di noi c'era l'idea di competere la natura è più forte di noi ma noi con la tecnica possiamo competere vedete già il quinto secolo avanti Cristo abbiamo faccio un salto mortale così senza rete sperando di non farvi male di non cadere arriviamo qui la contrapposizione tra la natura libera e la natura vexata di Bacone e qui qui c'è una grande frattura dice Bacone noi non cerchiamo soltanto una storia della natura libera e sconfinata la natura libera ma quello che noi soprattutto cerchiamo è la storia della natura costetta e violentata vexata l'uomo interviene con la sua mano non la lascia vita la trappa la manipola cioè dalla natura strappata da uno stato originale dominante e mortificata dall'arte e dalla sinistra e qui ci sono stati per gestare la rivoluzione scientifica nel seicento quelle luministiche nel settecento poi per la positivistica soprattutto la grande rivoluzione industriale della macchina dove lì non so a Vincenzo se vedo bene lui ha parlato con questa grinta c'è la gente della grande accelerazione che è di pochi decenni fa però lì già c'era questa rivoluzione nella macchina all'improvviso Prometeo chi era Prometeo? Prometeo era colui che ha dato all'uomo le arti la tecnica che è il fuoco per cui l'uomo poteva sopravvivere difendersi dagli animali difendersi dall'adversità questo Prometeo è cresciuto è vero l'accelerazione avaricmerga è cresciata era il Prometeo era a servizio dell'uomo è cresciuto dentro di noi da superarsi questo Prometeo la tecnica che supera l'uomo l'antichità c'è un bel dialogo di Platone il Protagora che dice che per me è illuminante dice l'uomo è apparso sulla terra per ultimo e ad un certo punto era il più debole di tutti scomparivo perché c'erano le avversità della natura per un verso e c'erano feroci degli animali allora è arrivato Prometeo che ha dato all'uomo la tecnica in fuoco e l'uomo cosa ha potuto costruire le grotte costruire le armi si difendeva dalla natura e dagli animali e aveva la demurgica tecnica però l'uomo continuava a morire perché moriva perché c'erano gli altri uomini che lo uccidevano dice Platone aveva la tecnica di musica ma non aveva la tecnica politica aveva la tecnica ma non aveva la politica allora Giove chiama Erme e si dice parla e ti fondi tra gli uomini la politica l'arte della politica dalla polizia dalla comunità di stare assieme perché solo così sopravviveranno Erme dice ma come la vuoi? come l'ha dato agli architetti agli ingegneri a categorie vendite no non in maniera contraria ma tala tu quindi lì la tecnica l'antichità aveva messo le cose secondo una gerarchia l'aveva subordinata alla politica la politica era governata dalla filosofia eccetera e oggi e qui finisco subito e per cui la a tal punto che questo filosofo del topoguardo interganza ha scritto un libro l'uomo antiquato che promette talmente cresciuto dentro di noi per cui noi proviamo una sorta di vergogna ci sentiamo inferiori perché la tecnica costruisce dei dispositivi dei robot che durano e noi moriamo proviamo vergogna addirittura questa popovolgine allora quella di oggi tecnologia o tecnocrazia è vero? che ci ci mette all'acqua l'amore per la tecnica la filotecnia è a favore dell'uomo costruiremo costruiremo una macchina costruiremo un mondo che ci distrugge ecco per passo la parola di insieme grazie 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 bene abbiamo visto come è la situazione quando diciamo praticamente in terra su terra c'è una insostenibilità ecologica segnalata a molto tempo dagli esenziati che adesso giustamente sono presi dai giovani e poi c'è anche una insostenibilità sociale riprendo anche quella frase del pappa che diceva, lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solo in catastrofi. È necessaria una coraggiosa rivoluzione culturale. È indispensabile recuperare i valori distrutti da una sfumatezza megalore. L'uomo ha voluto far tanto. Allora chiediamoci cosa si può fare, se vogliamo un futuro sostenibile. La fatale del futuro può essere sostenibile, non so, ma anche il futuro è. Comunque, proviamo a vedere che ragionamenti si potrebbero fare sui punti critici. Allora abbiamo visto che la prima mossa, quella dalla quale poi devono derivare tutte le altre, la mossa è sostituire i combustibili fossili con le energie rinnovabili. Qui è un obiettivo che si devono porre, naturalmente, i silenziati che sono già posti, i politici che devono fare qualcosa, e poi ciascuno di noi. Perché? Perché la situazione, abbiamo visto, è così. È che noi siamo lì su in cima, consumiamo tutte, tutte queste combustibili fossili, producendo tutto quello CO2, che ci fa danni. I combustibili fossili sono gli esaurimenti, abbiamo detto, l'uso dei combustibili fossili causa danno alla salute, per di più cambia nel clima, e quindi dobbiamo venire giù, dobbiamo venire giù. Quindi, voi giovani, appunto, non vi aspettate, da andare su, in questo piano, bisogna venire giù. Venire giù vuol dire, poi, che però dovremo cercare delle energie alternative, perché se no, come si fa senza energia? Allora, ci sono queste energie alternative o non ci sono? Beh, ci sono. Faccio una cosa molto rapida, perché a quel tempo è quello che è. Allora, per esempio, usiamo già da parecchio tempo l'energia idroelettrica, no? Piove, raccogliamo l'alba in un bacino, mettiamo dei frutti, va bene. Allora, questa qui è un'energia rinnovabile, perché appunto succede che col sole l'acqua evapia, non piove, così c'è questo ciclo, bene. Oggi, però, usiamo ancora di più l'energia del vento. Arriva il vento, su queste paleoliche, fa girare, e girando, ci sono dei magneti dentro, eccetera, si produce l'energia elettrica. Poi, come tutti sapete, si produce l'energia elettrica con i pannelli fluttobotanici. E si produce l'energia elettrica, volendo, anche con questi campi di specchi che concentrano la luce solare su un punto dove poi si fa abbondire un liquido che poi, appunto, poi è un po' di rinnovazione. Allora, qui si capisce che tutte queste energie rinnovabili che avevamo da tempo, che abbiamo sviluppato, producono elettricità, producono elettricità. E non producono CO2. E ci sono altri tanti vantaggi al fatto che non producono elettricità. Per esempio, io per usare i combustibili fossili, cosa devo fare? Devo scavare da qualche parte in un pozzo. Devo metterli da qualche parte e trasportarli perché in genere li uso lontano da dove sono i pozzi. Poi, succede che generano, come abbiamo detto, sui fatti inquinanti, anche le problematiche, eccetera. Ora, queste energie rinnovabili, che sono quelle del sole, della pioggia e del vento, sono dappertutto. Piovono giù dal cielo, io devo piondere dal cielo. E io le posso trasformare in elettricità. L'elettricità è qualcosa che si può far viaggiare molto bene a lungo fino, senza causare disastri. Non c'è bisogno che ci sia un gas notto che può esplodere, un cambio di autostrada pieno di petrolio che può, appunto, fare un incidente, eccetera. Quindi ha diversi vantaggi per la faccetta. Qualcuno può dire, ma se io voglio un combustibile, qui non ce l'ha un combustibile. Beh, niente paura. Con l'elettricità si fa l'elettricità dell'acqua e si produce idrogeno. Idrogeno combustibile è pulito, dopo essere proprio all'aria, attualmente. Addirittura, poi qui, siccome l'elettricità è più facile da usare, siccome i motori elettrici hanno più rendimento di quelli a combustione interna, uno, se anche all'idrogeno lo può fare, magari lo può magazzinare, eccetera, molto spesso gli conviene tornare con l'idrogeno, tornare con le pile combustibili a rigenerare l'elettricità che poi userà. Qualcuno vuol dire, ma si può fare, si può passare dei combustibili fossili a queste energie renovabili? Beh, ci sono molti studiosi che essi obbligano di questa faccetta. Qui ci sono poi risultati di un gruppo americano che dice, oggi usiamo tutti i combustibili fossili, ma pian piano, pian piano, se avrebbero di dire un po' più forte, comunque, entro il 2050, se siamo tali, i combustibili fossili susserano sempre meno, questa parte nera, e svilupperli di protomontale, con le ruote che c'è. Quindi è possibile. È possibile, e poi l'elettricità ha dei vantaggi, perché è più efficiente, del calore. E questi gruppi, questi esperti, hanno fatto anche proprio degli studi sui singoli paesi, su tanti paesi, 130 paesi, credo, e anche sull'Italia. E hanno detto, l'Italia, se vuole, nel 2050, può avere tutte le energie di cui ha bisogno, col fotovoltaico, l'eolico, il solare a concentrazione di questa faccetta qui, l'idolo elettrico, e anche a geoglietro, per cercare un blocco estenerato. Allora, se si può fare, fra l'altro, porterebbe il momento di posti di lavoro, perché, appunto, le energie rinnovabili sono una cosa che riguarda le aziende manufatturiere, che hanno un'attività di lavoro maggiore, le aziende invece che strammano solo. Quindi, non sarebbe più la catastrofe dei morti per l'inquinamento, si riuscirebbe a governare ancora il clima, nel senso che non si peggiorerebbe quanto sarebbe il signore, ci sarebbero i posti di lavoro, insomma, ci sono tutte le condizioni perché si faccia. E l'unico dice, ma perché non si fa? Eh, perché non si fa? Ho preso un articolo dalla stampa che dice, energia, il futuro è già presente, ma il passato non vuole passare. Eh, sì, perché i combustibili fossili, ci sono troppi interessi di poteri, di soldi, immaginati, i combustibili fossili, pensate ai posti di petrolio, pensate a tutti i gasplotti delle odotte, pensate all'analisi esterna, pensate al cammino, pensate, finché arrivano dal nostro distributore, quanta gente c'è che ci lo corrisponde. Quindi è un problema. però è chiaro che con il nostro risolveremo oggi la maglia. Quello che ci vorrebbe è una graduale riconversione di tutto quello che oggi si va sui fossili a le energie rinnovabili. Ci sarebbero dei vantaggi, però, appunto, sappiamo che in Italia abbiamo l'Eni, l'Eni che è la nostra rovina, perché ci impedisce di passare le energie rinnovabili. Possiamo che la risultiamo, eh? Allora, abbiamo detto che la prima mossa importante è passare alle energie rinnovabili. Poi, l'altra mossa importante, mi ha già visto un po', è passare dall'economia lineare all'economia circolare. Perché abbiamo detto questo sistema dell'economia lineare che si basa su tutti i giri, ci sono risorse che vogliamo, io mi porto finché vogliamo più rifiuti, è l'usegetica o il consumismo. L'usegetica non si può andare avanti con l'usegetica. Quindi bisogna passare un'economia che parta da quelle che sono la realtà, che come è fatta il mondo. E il mondo è fatto che le risorse naturali sono limitate e che anche la parte di rifiuti è limitate. C'è da fare, non ci scappiamo di qui. Allora bisognerà appunto fare un'energia con l'economia circolare, userà le materie per rire, le userà nel modo migliore possibile, nella quantità migliore possibile per fare delle cose che funzionano bene, che funzionano bene e dopo poi le possono anche riparare, usare in parte e comunque riciclare. Ecco, riciclare, riciclare. E bisogna che l'energia con cui fare funzionare l'industria non può essere quella di combustibili forse, perché c'è tanto tutti i disastri che sappiamo, deve essere quella dell'energia rinnovabile, del sole, del vento e dell'alto. E fin qui dice, ah che fa bene, allora ce la facciamo. Eh, ci sono molti problemi. Cominciando da uno, che è questo. L'energia rinnovabile primabile, cioè il sole, vento e acqua sono molto abbondante. Ma se io esco questa mattina fuori e c'è il sole, sono contento, ma se voglio energia elettrica non basta guardare il sole, bisogna che io converta l'energia solare in elettricità. Cioè, quelle che noi usiamo non sono energie primarie, sono quelle di usi finali, elettricità, valore e combustibile. Noi, tutte le notizie le restano per me. Allora bisogna che trasformiamo le energie primarie, rinnovabili, abbondanti in queste cose. Ma come faccio io a trasformare l'energia solare in elettricità? Devo farlo. Io avevo un padello fotovoltaico e poi una rete elettrica. Ma come faccio? Il padello fotovoltaico mi capiamo è dal cielo. Devo farlo. da dove? Eh, dove prendo la roba concreta? Dalla terra. Quindi mi devo fare dei dispositivi e degli apparati concreti per poter sfruttare energie rinnovabili. E per fare qualche cosa devo andare, guarda un po', alla terra. Eh, la terra. Sono sempre lì, la terra. All'interno cosa c'è? Beh, chissà un po' di chimica, sa che sono quelli di elementi, no, fondamentali, c'è della roba, insomma, adesso qui, questa è una specie di tavola periodica fatta in modo che si capisce quali sono gli elementi un po' più abbondanti e un po' più scarsi. E qui si vede, per esempio, che l'ossigeno è abbondante. La terra è fatta così, è fatta questa roba qui, c'è l'ossigeno, c'è le idrose, c'è il sonno. Ecco, e quindi io devo prendere dalla terra questi materiali per costruire quei congeni per i dispositivi che mi permettono di convertire e utilizzare il genere di roba. Ah, dice allora, io devo andare a cercare qui, la roba di sera. Una cosa molto importante per le energie rinnovabili sono le batterie. Perché sono le batterie? Perché le energie rinnovabili, per esempio, ci sono die giorni o non di notte, quindi devo accumulare questa energia elettrica e poi se voglio andare in una macchina elettrica, io devo caricare nella macchina un riservo di energia elettrica, così come facevo se io devo dare una benzina nell'osservatore, l'osservatore, la batteria, quindi io devo vedere le batterie, le batterie sono importantissime, le batterie devono essere leggerie, sennò carica in macchina in batteria pesante, non c'è più un'emozione, allora no, potremmo farla leggera. Poi, l'elevante potenziale, eh, devo leggere molte energie in queste batterie, si vuole andare lontano, quindi densità di carica, quindi lunga, durata, insomma, devono avere delle caratteristiche, tutto quello che è in uso dei batteri, qual è l'elemento che si presta meglio a fare le batterie, soprattutto il litio, perché? Perché è il metallo più leggero, ci vuole un metallo, e questo è un metallo leggero, e quello che ha leggero di queste caratteristiche, dice, ma andiamo a dire, dov'è il litio? Qui, nel sistema periodico, andiamo a dire, dov'è il litio? Ah, è questo qui, ah, non ce n'è proprio un voluto di litio, eh, sarebbe stato meglio perché le batterie magari saldavano a sodio e va meglio, eh, la leggera di più, questo odio non funziona, quindi è il litio, eh, ma poi non solo, per quanto riguarda delle batterie, non c'è quello di litio, c'è anche un'altra cosa, un altro elemento, importante, che è il cobalto, il cobalto è qui in giro, vedete, c'era poco anche di cobalto, era meglio se funzionavano col ferro, perché si è detto, no, non funzionano, quindi il cobalto, non possiamo nemmeno cambiare il mondo, allora ci fa il litio cobalto, va bene, perché il cobalto è volentato per vedere dove sono, e quindi il litio è in Australia, a Giro e a Gentile, il cobalto, non so che la foto, ma si tira fuori, quasi molto dall'Africa, da miniere, in cui si lavora il modo spaventonoso, insomma, qui ci sono dei problemi, quindi il problema è che io posso passare finché voglio a questa economia circolare, che devo far funzionare, con le energie rinnovabili, finché tutto va bene, ma adesso ho visto che ci sono dei limiti materiali, cioè il fatto di essere sulla Terra, non è nemmeno quello che si vuole, pone dei limiti, è la Della, per chi lo sa, pone dei limiti, allora, quindi avevo detto che bisogna passare a via circolare, allora le tecnologie circolari riparavano questi limiti, perché siamo sulla Terra, allora, e qui ci sono dei limiti, forse sarà meglio che li metti in testa, che anziché produrre sempre di più energia, per esempio, non sarà opportuno pensare da usarne sempre di meno, eh, lo stesso di qualsiasi cosa, produrre di più, crescita, crescita, ma non sarà il caso di dire con il proprio bisogno, non posso produrre un po' meno, quindi l'altro punto da seguire è ridurre le cose, ridurre le cose, in dimensioni, in quantità, in qualche volete, e anche loro uso, chi lo devono fare questi? Vabbè? Tutti, 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 allora, per capire un po' questo punto, parlo ancora dell'energia, no? Energia, energia, vado a vedere il consumo di energia, medio, espressa potenza, insomma, per qualche paese, Stati Uniti, un cittadino americano, usa una potenza di 12.000 watt, adesso non ho capito, in qualche parte mi sono capiti, quello che è voluto è il confronto, perché un certo tipo europeo inizia a fare 6.000 watt, quindi consumiamo la metà dell'americano, qualcuno dirà, vabbè, altri loro, chissà come sono felici, consumando il doppio di energia di loro, non l'ha fatto avere, no? Non chiede che sono più presi di loro, tra l'altro molta energia dà anche fastidio, non troppo tra l'altro, non troppo più direttore, vabbè, un cittadino indiano, un 1.500 watt, può darsi che sia un po' poco, non so, fatto sta, insomma, che, perlomeno, dei paesi righi, si capisce che si può fare all'interno, e poi dopo, non so, un nigeriano, 690 watt, non so, poco, quindi molti paesi dovranno crescere, ma c'è un limite oltre al quale non serve più l'energia, e lo faccio vedere come sta per figura, che, appunto, noi nel 60, qui in Italia e in Europa, consegnavamo 2.000 watt, io c'ero in 60, di gran tipo stava benissimo, cioè, allora, quindi, 2.000 watt forse bastano, forse sì, gli studiosi dipendono di sì, infatti, guardate un po', è successo che in Svizzera, dove ci sono licenziati, i segni educati, hanno detto, dovrebbero bastanti 2.000 watt, allora ho proposto, al governo, una legge, la legge è stata sottoposta al referente, la Svizzera è stata provata in referente, da qui al 2050, perché non si può fare in un attimo sta prodotto di andare là, diminuirà il consumo di energia, loro sono sui 1.000 watt di l'ora, adesso in Svizzera, diminuirà fino al 2.000 watt, perché nebbenevano, basta, ecco, quindi consumare di meno, si può consumare di meno, di energia, ma di tutto, ecco, adesso, per un futuro sostenibile, non basta però la sostenibilità ecologica che è bene o male espressa da questi tre punti qui, c'è anche il problema della sostenibilità sociale, e quindi bisogna battere le disuguaglianze, abbattere le disuguaglianze perché invece la disuguaglianza non si sta bene, e lo fa un po' tutti, la politica, l'economia, le finanze, è giusto noi stessi, ho fatto venire prima questa figura, non avevo però aggiunto che in Italia il 5% più ricco ha più soldi del 90% più povero, uno potrà pensare, ma, insomma, ridurre le disuguaglianze va bene solo per i poveri, saranno contenti solo i poveri, e c'è che studia queste cose e dimostra che no, anche i ricchi saranno più contenti, o dopo i poveri, perché? perché? guardate questo è un studio appunto sulle disuguaglianze, qui c'è disuguaglianze basse, disuguaglianze alte, quindi sono tanti paesi, e hanno preso il paese appunto, e qui, in questi paesi, pian piano, cresce la disuguaglianza, e cosa succede? che quando la disuguaglianza è bassa, diventa alta, aumentano tutti i sintomi di malessere in un paese, cioè non solo la mortalità infantile, i morcini, i furti, e nello stesso tempo diminuiscono, vedete, tutti i sintomi di benessere, che se hanno le loro fiducia e il reciproco, le vanno a distruzione, le vanno a essere dei bambini, quindi si capisce che se si vuole vivere in una società migliore, bisogna diminuire la disuguaglianza, e anche i ricchi staranno meglio, perché, mentre adesso si vuole veramente ricco, si deve chiudere in casa, con due tv, un paio di cani di buco, vuol dire fare un muro, però non è tranquillo, lo stesso, ecco, meno le disuguaglianze sarebbe da fermare. Come si fa in tutti i disuguaglianzi? Questo è un problema che ci disse, io non so amico queste cose, ne raccontano così, ci sono delle misure di contenimento, perché le disuguaglianze, capisci, le persone sono difficili da combattere, ma crescano sempre, allora c'è che fra i paesi qui diciamo più virtuosi, qualcuno ha dato una sensazione progressiva più spinta, faccio notare che all'inverso di un'altra tax, è più spinta, deve essere più spinta, chi più guadagna, di questo, diciamo, e poi anche di tutti i stipendi alti. Ci sono dei manager, avete visto anche recentemente quello che è uscito, da dove è uscito, non l'ha che, beh insomma, che ha avuto 12 milioni di liquidazione, più non so quante altre azioni, ci sono dei manager che hanno stipendi troppo anni, qualcuno dirà, ma se non ci saranno le disuguaglianze, vado via, ma perché vado via? perché se dobbiamo creare le disuguaglianze, che va via? Purtroppo le disuguaglianze non sono solamente in vari paesi, eccetera, ci sono, su scala mondiale, delle cose incredibili, che è questa, tre uomini ricco nell'Africa, dice, ma forse è sbagliato, sai quanto è grande l'Africa? Tre uomini ricco nell'Africa, impossibile, l'Africa, quanto è grande? L'avete mai vista quanto è grande l'Africa? Guardate, dentro l'Africa tutta la Cina, tutta l'India, tutti gli Stati Uniti, tutta l'Europa occidentale, gran parte dell'Europa orientale, il Giappone, e ci rimane con un po' di posto, sarà grande l'Africa. Eppure, tre persone, di quei subiubiliari, hanno più soldi dell'Africa. E sconvolge per le notizie, quando vado ad una scuola e dico, ragazzi, questa casa qui, voi la conoscevi, bene, perché in tutte le scuole, forse non l'avete mai visto, adesso sto per qualità, sotto, che è una carta della ricchezza. E ci dirà che un paese è tanto più ricco, quanto più esteso, quanto più colorato. Ed è questa. nessuno si meraviglia che gli Stati Uniti sono ricchi e, chi ha detto in sé, è ricchissimo, ma è piccolissima qui, però è ricca, quindi è grande, Giappone pure. E uno si dirà, ma l'Africa, dove è finita l'Africa? Così male, per me è così male. non solo, perché sempre non sono queste cose, c'è un paese ricco in Africa, sapete qual è, no? In Sudafrica, e gli altri sono qui, 46 ieri, tutti assedi, alle soli. Allora, io dico ai ragazzi, scusate, ma se voi siete qui, foste qui, no? Qui, dove, se i poveri, si è sempre in guerra perché ci sono dedicati e messi a caso da altre potenze, si fa la guerra con armi che persino noi forniamo, e voi cosa vorreste fare? Ah, se vorremmo cambiare scopertimenti, la gente, è quello che cercano di farlo, la gente, no? Dopodiché, gli donò una soluzione di tasca, non lo so far capire perché è stuscire, c'è le cose, e allora, appunto, ne succede che, dopo ci si pone il problema, ognuno lo so che non è pronto. Ma l'Africa, ve la faccio vedere un'altra volta, la vedete l'Africa? Come è buia, come è dominata l'Europa, ah, ma ci si è molto, non hanno neanche la luce, eh no, non hanno neanche la luce. E senza luce, cosa pensate che si possa fare quando avviene il buio alle sette di sera, cosa si può fare? Si può studiare, no? Cosa si può fare? Niente. Quindi la luce è la prima di sera. E come potrei risolvere l'Africa prima della luce? Non certo con i posti di petrolio che andiamo scavando tutto lì attorno. La luce bisogna che si crei lì dove serve. Allora, guardate un po', se l'Africa è così di notte, guardate la diegione, ha moltissima luce solare, molta più che noi, vedete? Allora la soluzione per l'Africa, per la luce in Africa, che è la base di tutto, è il fotovoltaico, il fotovoltaico, che già lo usano un po' anche nelle capanne, ma si possono trovare le piante grandi. Perché il fotovoltaico ha un sacco di pregi, è quasi un miracolo. Il fotovoltaico lo può usare se può usare per tutto. Il fotovoltaico è scalabile, ce lo può usare per fare cose piccolissime o cose grandi. Il fotovoltaico ha un'efficienza del 20%, sapete che sono 20%? Che efficienza ha la fotossilgine naturale che lavora per noi là fuori, sapere quanto ha? Ha meno del 0,5%. Lui ha 20%. Una cosa incredibile. Il fotovoltaico quindi converte le lecce solare le gelate con il 20% d'efficienza. Dura 30 anni questo pannello. I costi sono sempre in diminuzione quindi questa sarà la soluzione per dare. Allora l'Europa deve aiutare a elettrificare l'Africa nel suo stesso interesse. Finché non ha la luce cosa avranno a fare? E allora naturalmente tutti che dovranno fare del loro meglio cominciamo dai politici e poi non dimentichiamoci anche di noi perché appunto ci fa presto a dire che gli altri hanno fatto abbastanza e hanno fatto loro. Proviamo noi a fare del nostro bene perché ciascuno di noi nel campo in cui opera con le competenze che ha la situazione in cui si trova può dare il suo contributo per un futuro sostenibile perché questo pianeta poi come dicono anche Greta ma c'è il pianeta B noi possiamo vivere solo qui e quindi è l'unico luogo in cui possiamo vivere quindi si può cercare di fare una società più etica più giusta e facendo leva su quelle che sono poi le nostre energie spirituali che non so responsabilità subgrindà collaborazione solidarietà amicizia creatività bene grazie grazie c'è un livello individuale la responsabilità la responsabilità vuol dire rispondere ognuno a fronte del calo di credibilità delle varie istituzioni che non sto a rincare e di anoressia di pensiero credo che oggi sia l'epoca chiamata la responsabilità individuale e la politica qui c'è una contraddizione la politica è locale non riusciamo a fare la pure la roba invece l'economia e la tecnica sono mondiali questo è il problema e allora perlomeno credo che a chi fa il nostro mestiere il mio mestiere ci sia un punto una chiamata la responsabilità individuale di tutti la politica che non ce la fa non ce la fa fare l'Europa che rendete conto e la tecnica la tecnologia l'economia celebra quotidianamente che lo trionfi su scala globale chi li governa qui c'è bisogno sì proprio di una c'è un'emergenza educativa c'è un'emergenza culturale c'è direbbe Agostino la necessità del clamor progettazione del grido del pensiero e allora cosa si può fare si può fare la parola chiama di questo ferse dal francescano dell'incorso questa mattina è il dialogo dialogo non è un compromesso una scelta ribasso mettiamoci comunque d'accordo dialogo è una parola contenutissima il logo il discorso la ragione che ognuno di noi ha e che vi ha attraverso quell'altro dialogo deve essere tra chi come il mestre di classici rincenzi che fa chine tra gli scienziati gli umanisti dialogo è tra i vari linguaggi perché la cultura è unica bisogna di dialogo dialogo tra le generazioni confrontare i linguaggi perché vogliono improntare bene quello che è andato bene a noi però bisogna confrontarci mettere un aperto dialogo oggi tra i vari popoli per cui voglio capire anche le lingue degli altri non piallarli e ridurre al nostro loro dialogo dialogo il grande contore del dialogo è Socrate che è uno che interrogava tutti perché pensi così perché fai così perché gli dice adesso spiegami tu che sei questo dialogo ha quest'arte dell'interrogare io credo che oggi vedete parlano tutti di un nuovo umanismo anche dei poliziaci di altri che Dio li perdoni perché non sanno quello che dicono perché il nuovo umanismo quando uno parla di una cosa deve sapere cosa di io credo che sia la necessità oggi di un nuovo umanismo ci sia un grande ruolo da affiancare questa scienza questa tecnologia a porre delle domande perché la scienza e la tecnologia corrono tutti a dare delle risposte ma prima bisogna porre le domande giuste credo che c'è che c'è la mia che c'è la mia